In primo piano Renata Tosi, proclamata sindaco di Riccione, cancelleremo subito le strisce in blu, dice e aggiunge ripartiamo sicuri e felici di poter lavorare nell'interesse della nostra città. In cronaca, venticinquesimo furto al basport di San Clemente nel Riminese a sparire la notte scorsa, sono state tre slot machine caricati in tutta fretta sul furgone dai malviventi. In Regione, Sanità e Carabinieri del Nà scoprono 14 abusivi in Emilia-Romagna, controllati 80 studi professionali e ambulatori, c'erano anche fisioterapisti o donto-tecnici che facevano i dentisti. Lo Sporti, la 30 giugno Rimini festeggia Adria Ricchiuti, la storia di una bandiera sportiva, appuntamento dalle 19 alle 22 in piazzetta Santa Caterina, Borgo San Giuliano. Ben ritrovati con la nostra informazione, apriamo occupandoci anche stasera di amministrative, dunque Riccione che elegge nel ballottaggio Renata Tosi, stamane in residenza municipale è stata la proclamazione, dunque il primo giorno da neosindaco per la Atosi che naturalmente abbiamo incontrato per voi e l'abbiamo intervistata. Dice subito cancelleremo le strisce blu e aggiunge ripartiamo sicuri e felici di poter lavorare nell'interesse della nostra città e il nostro primo piano di stasera. Torna ad indossare la fascia tricolore Renata Tosi, archiviato il ballottaggio di domenica è tempo di rimettere in moto la macchina amministrativa parlando in municipio. I consiglieri neoletti, la Tosi ha detto col sorriso sulle labbra che c'è tanto da fare e non ci sarà tempo per le ferie. Già nel pomeriggio il primo cittadino della Perla Verda ha incontrato la dirigente che si occupa degli eventi per parlare dell'estate ma anche del prossimo Natale. C'è poi la manutenzione delle scuole, i campeggi che attendono risposte ma subito un impegno che va onorato. Come avevamo detto andremo a trasformare le righe blu in righe bianche solo per ricominciare. Veramente è una città che attende tante risposte, le abbiamo anche per fortuna rinfrescate e rideterminate passeggiando in città in questa campagna elettorale. Ora però bisogna recuperare il tempo perché ahimè quattro mesi come quelli che abbiamo trascorso in campagna e soprattutto quei mesi sono per una città che fa del turismo la sua asse importante e sono veramente determinanti e importanti. Occorre recuperare, correre ma soprattutto aver chiari quelle che sono le cose da fare. Per noi è assolutamente tutto chiaro e tutto da divertirsi. Si riparte dunque con quale spirito? Con grande slancio, grande energia, grande forza. Anche l'abbraccio ricevuto questa mattina all'ingresso è appunto quel motivo per il quale io sono qui e voglio esserci. Quindi una città che vuole entrare in amministrazione vuole partecipare. Io ci sono e su questo sono sicura che lavoreremo molto molto meglio e con grande serenità. Quindi abbiamo un lavoro da finire ma soprattutto abbiamo un lavoro per la città di Riccione. La cronaca venticinquesimo colpo notturno al bar sport di San Clemente Nereminese. Un record davvero poco invidiabile per il titolare Pio Angelini che si è trovato a dover fare i conti con i danni provocati dai soliti ignoti che per entrare nel locale hanno sfondato le porte. L'ultimo colpo risaliva allo scorso 11 aprile ma la calma evidentemente è durata neppure due mesi. Questa volta la notte scorsa a sparire sono state tre apparecchiettori stock machine con tutti i soldi dentro ma il 23 o 4 sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso mentre arrivavano sul posto con un furgoncino dopo aver forzato la porta d'ingresso con dei piedi di porco. In un attimo i malventi sono precipitati all'interno del bar. In pochi minuti hanno caricato le macchinette sul veicolo per poi fuggire a tutta velocità mentre sul posto stavano arrivando i carabinieri. Andiamo in regione con la nostra informazione. Parliamo dei carabinieri dell'Ass che scoprono 14 abusivi in Emilia Romagna. Si parla di sanità, controllati 80 studi professionali e ambulatori. C'erano anche i fisioterapisti e odontotecnici che facevano i dentisti. Da Bologna si vizio firmato da Alessio Bertini. Esercizi abusivi della professione medica. 14 le persone denunciate dai NAS in Emilia Romagna da gennaio ad aprile. 80 gli studi professionali e ambulatori controllati nei primi quattro mesi dell'anno. Tra i casi scoperti. Un falso dietista che a Bologna milantava di avere una laurea e prescriveva diete integratori alimentari e una naturopata che a Ravenna diceva di avere riconoscimenti internazionali e rilasciava ricette per un rapido dimagrimento. Ma anche un presunto veterinario che visitava i gatti a domicilio senza laurea e poi falsi fisioterapisti oppure odontotecnici sorpresi a fare i dentisti. Il falso veterinario, beccato sotto le due torri, è stato pure trovato in possesso di un importante quantitativo di farmaci in casa subito sequestrato. I falsi fisioterapisti, due, sono stati invece individuati in due diverse strutture non autorizzate nelle province di Bologna e Forlì Cesena dopo verifiche sull'acquisto via web di coupon di prestazioni sanitarie a prezzi vantaggiosi. Del ferrarese è stato trovato un odontoiatra che consentiva alla moglie, in realtà semplice assistente, di fare la pulizia dei denti ai clienti. Nella stessa provincia è stato scoperto pure uno studio abusivo gestito da odontotecnici che si comportavano come dentisti. Anche nel Ravennate un affermato odontoiatra aveva istruito una dipendente con licenza media a pulire i denti dei pazienti. Situazione simile a Bologna dove sono stati pizzicati due odontotecnici che da anni prescrivevano farmaci ed esami utilizzando il timbro di un professionista a risultato estraneo ai fatti. In un altro caso una donna asiatica assunta per pulire locali e trattature si dedicava pure ai denti dei clienti. Un 19enne di Castel Bolognese nel Ravennate è stato arrestato ieri sera dai carabinieri con l'accusa di aver accoltellato un 17enne compagno di scuola per questioni presumibilmente inerenti a una ragazzina contesa. Il ferito ha rimediato un taglio di un decino di centimetri ad una guancia, sei punti a una spalla e un'ulteriore lesione ad un dito. Secondo quanto ricostruito dai militari tutto è accaduto verso il 17 di fronte alla piscina comunale dove il 19enne avrebbe dato appuntamento al 17enne in seguito all'ennesima telefonata che quest'ultimo aveva fatto, era a 15enne sua ex fidanzata, era fidanzata dal primo secondo poi quanto riferito ai carabinieri. Il 19enne ha dato l'appuntamento in bici portando con sé un cutter con l'intenzione a suo dire di spaventare il rivale ma non di ferirlo la lite. E' però presto degenerata anche per ragioni pregresse scaramucce che si sono verificate a scuola e dunque si è arrivati all'arresto del 19enne. Sorpresi e amareggiati per le scelte legate alla spending review. Parliamo dell'arrivo dei rinforzi estivi di polizia a Rimini. Arriveranno solo per un mese e dal 20 luglio al 20 agosto quando ormai le più grandi, le maggiori iniziative come la Molo Street Parade sabato scorso ma soprattutto la Notte Rosa sono già andati in archivio a contestare l'iniziativa e dunque a protestare il sindacato, il SIAP. Sentite. Siamo sorpresi e amareggiati che per scelte legate alla spending review, l'arrivo dei rinforzi estivi, siano previsti solo per un mese, ovvero dal 20 luglio al 20 agosto. Lo scrive il sindacato di polizia SIAP che in una nota rilancia sulle condizioni lavorative dei poliziotti riminesi. Non contestiamo, prosegue l'intervento del sindacato, il numero dei rinforzi, 80 unità, tra l'altro presa poco identico a quelli previsti negli ultimi anni, ma il periodo esiguo. Paradossalmente arriveranno dopo i grandi eventi che richiamano una straordinaria affluenza di pubblico come la Molo Street Parade il 24 giugno e la Notte Rosa il 7 luglio. Doverose mettere in evidenza che se si è riuscita a garantire il buon esito della manifestazione della Molo Street Parade sotto l'ospetto dell'ordine pubblico, lo si deve al senso di responsabilità e di abnegazione dei poliziotti riminesi e di tutte le forze dell'ordine in servizio in questa provincia. Non possiamo più tollerare che il controllo del territorio nelle 24 ore sia demandato a solo due equipaggi, delle volanti composte da due operatori, servono uomini, mezzi ed equipaggiamenti adeguati. Ma il personale della Polizia di Stato è costretto per senso del dovere ad effettuare doppi turni di servizio, rimarca al SIA per colmare la carenza di personale. Di contropartita non vengono pagate le ore in eccesso di straordinario, mediamente vi sono tagli del 60-70% e oltre la beffa anche l'inganno al personale in servizio non vengono neanche garantiti, rimborsi per i pasti nei tempi dovuti. La questura di Rimini sta valutando l'espulsione di due senegalesi trentenni controllati nella serata di ieri al Parco Cervi, area verde, in pieno centro, abituale ritrovo di bandati e spacciatori. Uno dei due stranieri aveva un coltello e è stato denunciato per porto abusivo di armi, l'altro è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Negli ultimi due mesi sono già 15 gli arresti compiuti dalla Polizia del Stato al Parco Cervi e per aumentare il grado di percezione di sicurezza da parte dei cittadini saranno intensificati i controlli per tutto il resto del periodo estivo. Torniamo in regione adesso perché parliamo di edilizia, di costruzioni. Cala il volume d'affari nell'edilizia. Insomma un altro dato negativo che si aggiunge a tanti altri percettori dei quali vi abbiamo dato conto anche nelle scorse settimane che evidentemente in questo senso non vogliono abbandonare. Si parla ancora di crisi. Da Bologna, Alessio Bertini. Torna al segno meno in uno dei settori chiave della crisi economica, l'edilizia. È diminuito dell'1,1% nel primo trimestre di quest'anno il volume d'affari dell'industria delle costruzioni in Emilia Romagna. Questa l'indicazione dell'indagine sulla congiuntura del settore realizzata da Union Camera regionale. Si conferma però la correlazione positiva tra dimensione di imprese e andamento del volume d'affari che risulta pari a meno 1,5% per le piccole e medie imprese ma a un più 0,6% per le grandi. Secondo l'Istat, nei primi tre mesi dell'anno gli occupati delle costruzioni sono più di 107.000 con un incremento dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2016 che si confronta con una tendenza più contenuta a livello nazionale. A fine marzo le imprese attive nelle costruzioni in Emilia Romagna erano 66.395, quindi l'1,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La riduzione è più ampia e più rapida tra le imprese operanti nella costruzione di edifici ma non va molto meglio per quelle attive nei lavori specializzati. La diminuzione è determinata soprattutto dalle ditte individuali ma la tendenza negativa è più forte per le società di persone. A crescere sono solo le società di capitali. La mancanza di pioggia e lo stato di siccità perdurante colpisce a rimine anche la fontana di Piazza Cavour. Il Comune, visto il perdurare della situazione, ha deciso infatti di attivarsi per un maggiore risparmio delle risorse idriche e sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua dalla storica fontana che non ha come altre fontane in città l'erogazione controllata da rubinetti ma è a getto continuo. Si tratta, spiega l'assessore Anna Montini, di una piccola misura un segnale nell'ottica di preservare il più possibile le risorse idriche del territorio in un momento dove l'acqua diventa ancora più preziosa. Chiudere temporaneamente la fontana della Pigna, dice Montini, chiaramente non è risolutivo ma è comunque un segnale di attenzione che speriamo possa essere da esempio per andare a cambiare le abitudini dei cittadini al di là delle condizioni meteo. Parliamo adesso anche di sicurezza sulla strada perché nasce Forlì, la fondazione ASAPS particolarmente attenta, come sempre con il suo presidente Giordano Biserni, ai problemi della strada. Gianluigi Luccaretti Si tratta di un'alleanza etica tra attori diversi che nel fine sociale comune si legge hanno trovato un impegno condiviso, una strada collettiva ovvero la buona strada ed è stata presentata a Forlì la fondazione ASAPS per la sicurezza stradale urbana. La firma iniziale sull'atto costitutivo della fondazione è stata depositata dal presidente dell'associazione Giordano Biserni che nel 1991 aveva promosso la nascita dell'associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. A sottoscrivere statuto e atto costitutivo a fianco all'ASAPS diverse realtà associative imprenditoriali impegnate nella tutela della sicurezza stradale le quali, ognuna alla propria specificità, contribuiscono a produrre responsabilità e legalità nelle nostre città. Dopo 26 anni di intensa informazione, campagne di sensibilizzazione e azioni positive promosse dall'ASAPS è stato spiegato l'obiettivo è quello di far confluire ad un unico tavolo le numerose istanze dei cittadini e delle associazioni le differenti voci, delle forze dell'ordine e le attenzioni dei soggetti imprenditoriali coinvolti nella sicurezza stradale urbana al fine di favorire la crescita di una cultura della sicurezza to court. La strada da percorrere e tutta da costruire, dicono, il Consiglio e l'amministrazione è pronto a riunirsi nel prossimo mese al fine di pianificare le prime attività da porre in essere dopo aver perfezionato il riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Forlì. Informazione, formazione, consulenza e ricerca sono le parole d'ordine attorno a cui ruoterà il programma della neonata fondazione. E adesso le tradizioni ma anche la spiritualità nel weekend a Villa Torlonia e dunque alla Torre a San Mauro Pascoli tre giorni veri e propri di iniziative legate alla tradizione ma soprattutto con un occhio anche alla fede sentite. Una festa alla Torre per ritrovare le tradizioni e sposarle col carattere sacro di San Pietro e Paolo. Nel fine settimana ha partecipato in iniziativa a San Mauro Pascoli nel suggestivo scenario di Villa Torlonia. Si tratta di un impegno che coinvolge i soci e gli amici della sozione Torre. Patrocinata dal Comune, la manifestazione si svolge sempre l'ultimo weekend di giugno. I giorni della festa sono un'occasione unica per partecipare a visite guidate dell'edificio padronale, di solito non accessibile al pubblico e della chiesetta dedicata ai Santi della festa di origine molto antica. Da oltre 30 anni la festa alla Torre accoglie tantissime persone e tanti turisti. Villa Torlonia, parco poesia Pascoli, si presenta anche con questa bella sagra popolare la festa di San Pietro e Paolo alla Torre dove l'associazione Torre, un'associazione meravigliosa di tantissimi volontari, animano per tre giorni questa bellissima piazza di Villa Torlonia. La musica ha fatto da cornicio la manifestazione, molto applaudito il concerto di Sergio Casabianca e le gocce che sabato sera ha riunito nel giardino di Villa Torlonia. Centinaia di persone nei tre giorni della festa sono stati allestiti stand gastronomici organizzati dall'associazione Torre con degustazione di piatti tipici locali. Di particolare rilievo il Museo della Civiltà Contadina curato da Daniele Montemaggi, simboli di un'epoca che non c'è più ma che è ancora un incredibile fascino sulle persone e che proprio grazie ad iniziative di questo genere trovano terreno fertile e straordinari consensi. Lo sport adesso perché il 30 giugno Rimini festeggia Adrian Ricchiuti in occasione della pubblicazione del libro del collega Nicola Strazzacappa, Adrian Ricchiuti in leggenda, Biancorossa, al gruppo di amici del Borgo San Giuliano, unito sotto il marchio Borgo Cultura, promuove una giornata di festeggiamenti per il campione Biancorosso in occasione del suo compleanno. L'appuntamento in piazzetta Santa Caterina, proprio a Borgo San Giuliano, dalle 19 alle 22 in un calcio senza più frontiere con atleti che volano da un continente all'altro, indossare nuove maglie, quella di Ricchiuti. Secondo gli organizzatori è la storia di una bandiera sportiva, la storia di un uomo che con la maglia a scacchi, quella del Rimini ha scritto la storia e conquistato tutti i record possibili. Non c'è altro con la nostra informazione, mi fermo qua. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a vederci in diretta streaming 24 ore su 24, sul portale telerimini.it. In chiusura al termine della sigla vi ricordo uno focus speciale del nostro telegiornale, parleremo di alimentazione sano, vegano, italiano, il nuovo libro scritto a quattro mani da Red Canzian e dalla figlia Chiara. E come ogni martedì vi ricordo anche, stasera a partire dalle 20.30, l'appuntamento con Green Reports, dunque ambiente e mobilità sostenibile, nel nostro concetto focus settimanale. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento in compagnia della nostra trasmissione, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci. Sano, vegano, italiano, il libro del momento, il libro dell'estate, che viene presentato questa sera qui al ristorante Radicchio Rosso a Ravenna. Chiara, allora, quali sono le novità? Allora, è un libro che a me piace molto, è stato fatto a quattro mani con mio papà, io mi sono occupata della seconda parte, quella dedicata alle ricette, sono 50, 10 per stagione e 10 riservate ai dolci. Le novità sono che ogni giorno sono in una cucina diversa a preparare appunto il menu che poi viene degustato durante la serata di presentazione di questo libro, una cosa che ci siamo inventati per far capire alle persone dopo tutta la conferenza in cui appunto papà spiega tutto quello che c'è di narrato nella sua prima parte, in cui appunto le persone possono anche assaggiare quella che è la cucina vegana e capire che è buona, oltre ad essere etica. Un'anteprima, no? Questa in Emilia Romagna. E come nasce la vostra passione per il vegano? Ma è nata per tre motivi, perché amiamo gli animali, perché amiamo la nostra salute, perché amiamo l'ambiente. Chiara ancora in un percorso vegetariano si sta avvicinando al veganismo, io ho fatto questa scelta otto anni fa, però la cosa buffa che è l'unica data che siamo riusciti a fare in Emilia Romagna. Chiara, so che hai avuto molto da fare di là in cucina, quindi stasera che cosa presenterai? Allora, questa sera ci sono cinque portate, un benvenuto, un antipasto, un primo, un secondo, un dolce, quindi una cena bella corposa. Ci sono delle ricette che nascono dalla mia inventiva, come per esempio il benvenuto, che è una pralina di patà di ceci avvolta da granella di nocciola con una crema di zucchine alla base, ed è molto buona. L'antipasto è una bruschettina appena scottata di pane ai cinque cereali con un pesto chiaramente vegano, e della verdura, della frutta unite assieme, e anche quella è veramente speciale, anche per quanto semplice. Poi il primo l'ho voluto dedicare alla terra che ci ospita oggi, e quindi facciamo dei cappelletti, però li facciamo vegani, quindi con un ripieno di patate, pomodori secchi, basilico, e del lievetto alimentare in scaglie, che è un condimento che ricorda la sapidità del parmigiano. Il secondo è del muscolo di grano, che è un'alternativa vegetale alla carne, a base di farina di grano antico e farina di lenticchie, quindi ha anche un ottimo apporto proteico, e viene fatto come un medaglione alla mediterranea, quindi con un sugo di pomodori, capperi olive, servito con della cipolla caramellata di contorno, e poi il dolce, una rivisitazione del tiramisù, alle fragole, perché è stagione, e quindi dà anche un tono di freschezza, chiaramente tutto vegano. Noi vogliamo ringraziare la struttura che ci ospita, questo ristorante grandissimo, bellissimo, il radicchio rosso soprattutto gestito da persone belle, vere, sincere, con i quali abbiamo trovato subito il feeling giusto, Chiara ha trovato una cucina splendida, è attrezzatissima, vero? Sì, infatti adesso ci torno molto volentieri, a finire le ultime preparazioni per la serata, comunque sono in ottime mani. E dopo l'estate, col nuovo anno, magari arriverà anche qualcosa legato alla musica. Ciao! Una serata diversa dal solito, infatti è l'unica data che è stata fatta in Emilia Romagna, quindi abbiamo voluto dare un qualcosa di diverso al nostro pubblico, ai nostri clienti, con questo evento in particolare. Un ristorante è questo, che è un punto di riferimento per questo territorio, famoso anche per l'ottima cucina, naturalmente. Ma sì, diciamo che siamo in pochi anni, siamo diventati uno dei ristoranti a Ravenna abbastanza quotati, facendo pesce, romagnolo, e poi ogni tanto spaziamo facendo diverse cose, diversi eventi, appuntamenti, come questo qui, che è una cosa, diciamo, un po' fuori dal normale, perché appunto sono dei personaggi che, insomma, non è che tutti i giorni si possono avere nel proprio locale, quindi una cosa che a noi ha fatto immensamente piacere, che speriamo di far divertire e accontentare tutti i nostri parchi clienti.